Sì, prego, ditemi che ce l'avrò per sempre fuori avendo il mondo. Ma tra tutti quelli che potevi scegliere, proprio Dilloo, hai preso? Sì. Perché assolutamente non avevo fortuna nel trovarlo nei pacchetti, era praticamente quasi impossibile. E ho deciso di farlo in questo modo. Non giudicatevi, viate d'età. Ora vediamo se mi devo spostare ancora un pochino. Sì. 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 Vediamo lei. Lo potenzierò, eh, ragazzi. Viate fede. Lo farò. Lo dico. Ma quanto è bello. Ah. Final month. Sì. 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 Non ho nemmeno prova di personaggi io ancora. Anche valutare la situazione è importante, direi. Ma sì, dai. Sì. sicuramente qui sarà attaccata da altri mostri se gioca a video lei com'è vera amica mia chi sarebbe il suo maestro ultima prova a meno che non mi metto sopra però vabbè che non vedete il mio personaggio va bene che non c'è qui ok lei deve capire questa cosa ah, possono trasportare i desideri ok possiamo andare adesso? mi senti la carta di dietro ah, qua certo però ragazzi questa missione fatta così facciamoci una cosa carina dai ma a quel punto se l'hai studiata così lunga questa missione per introdurre questa cosa ma perché non metti dialoghi? non ha senso non mangiare credo che il nostro obiettivo sia là sì andiamo di look eccoci qua ci fate caso ragazzi ma io vi sto dando il tormento lo so però sto cercando una zona buona per la web ok alla prossima ciao ok ok ciao ciao Grazie a tutti